Alex, direi un buon modo per ricominciare, anche come atteggiamento mentale, la capacità di soffrire alla fine con tanti ragazzi in campo. Vincere è qualcosa che vi appartiene? Sì, vincere è sempre importante perché ci dà fiducia, ci dà morale. Ovviamente è stata una partita un po' dura, visti i carichi di allenamento di questi giorni. Non eravamo molto lucidi, però comunque abbiamo creato tante occasioni, potremmo sfruttarne ancora di più. Quindi alla fine è una buona vittoria, dobbiamo continuare a lavorare in questo ritiro, farci trovare pronti poi alla prima di campionato. Tutti si aspettano una caduta del Napoli, ma il Napoli cosa si aspetta da gennaio e febbraio? Il Napoli si aspetta e vuole continuare a fare quello che ha fatto finora, continuare a vincere, a fare risultati positivi tramite il lavoro quotidiano, seguendo quello che ci dice il mister. E niente, dobbiamo mai calare la tensione e continuare come stiamo facendo. Alex, poi ha provato anche questo 3-4-2-1 il mister, è qualcosa che ti piace? E poi volevo chiederti personalmente, ti abbiamo visto lavorare tanto, anche palla al piede, la ripartenza dal basso. Sei un aspetto in cui stai lavorando tanto e a che punto sei? Sì, sto lavorando tanto perché il mister ce lo chiede e oggi il campo non era proprio in perfette condizioni, quindi non si riusciva a giocare la palla benissimo. Nonostante ciò abbiamo fatto una buona partita per quanto riguarda il modulo, stiamo provando qualcosa di diverso, poi il mister deciderà come metterci in campo partita per partita, ma a queste partite servono anche a fare degli esperimenti, a provare delle cose perché sono in queste partite che dobbiamo provarle per vedere se ci potranno essere utili in campionato. Alex, solo se hai sentito i tuoi compagni che sono stati al Mondiale in queste settimane, come li hai sentiti, come li aspettate qui? Ma non li ho sentiti, adesso si godano un po' di meritate vacanze, diciamo che li aspettiamo con grande gioia e voglia di lavorare come abbiamo sempre fatto e quando torneranno con noi sicuramente daranno il massimo per continuare il nostro cammino. Alex, è chiaro che è un ritiro atipico perché si svolge l'autunno e l'inverno, un po' i carichi di lavoro, come vi state allenando? Sì, ci stiamo allenando molto su cinque giorni di lavoro, abbiamo fatto quattro sedute doppie, quindi comunque anche oggi penso che in campo si sia visto che ogni tanto non eravamo lucidi, però questo è normale in questa fase di preparazione, dobbiamo continuare a caricare perché il 4 gennaio rinizierà il campionato e dovremmo essere pronti.